Volevo chiedere in luogo a tutti i consiglieri, visto che ci stava un amico con una telecamera che vuole riprendere i lavori di consiglia, se siamo tutti d'accordo, diamo l'autorizzazione per poter riprendere in luogo. Io sono d'accordo, non lo so, pronunciatevi, ho chiesto l'autorizzazione per stasera, visto che stiamo d'accordo e poi regolarizziamo la situazione. Ma iniziamo, non è atteso di un regolamento, altrimenti sono dati, non sappiamo dove vanno, chi li usa. Vabbè, è a pubblico. Vabbè, segretario. Si, si. C'è necessità di una... Se volete, dovete prendere un'ormatica. Sì. Vabbè, lui si prende la malattia. Se guardate, state verbalizzate ciò che ha detto il consigliere. Eh? E' d'accordo? Si, si. Non è d'accordo. Non invito a fare una... Un'ormatica. Sì. Perfetto, grazie. Va bene. Grazie. Signor Presidente, sono raggiungo solo una cosa. Per correttezza, è un'inguadratura fissa, che riprende e quindi non ci saranno... cioè, asettica. Fate conto che fosse una telecamera, quindi non saranno grandi riprese. Bene. E' un modo per dare un servizio ai cittadini in periodo di Covid, fino a che il tuo comune non lo farà a farlo. Va bene. Noi lo facciamo come servizio alla... Ma chi? Sei un uomo di legge. Quindi se noi regolamentiamo questa cosa, pensa... E' medio. E' medio. Alla legge. Se la regolamentiamo. Sono d'accordo. Se dove occorre il regolamento. No, no. Sono d'accordo. Sono d'accordo. Allora, frangione. Si. Canelli. E' arriva un'altra volta. Un momento a seguire. Canelli. UPLERS Giamo! Come! E' birra! Grazie a tutti.